Minecraft ma non posso premere la W Andiamo subito a creare il mondo Chiamandolo con un nome semplicissimo Ovvero non premere la W E ora andiamo subito a crearlo Perfetto ora che siamo nel mondo l'obiettivo principale è quello di trovare degli amanti Come al solito perciò deve di partire subito Con l'andare a cercare e prendere della legna Per la legna deve andare all'indietro Però essendo che non posso premere la W Perciò mettiamoci davanti all'albero Ok dovrebbe andare bene così Ora cambiamo visuale E ora prendiamo un po' di legna Creiamo una crafting Creiamo un piccone Raccogliamo della pietra Creiamo un piccone e una spada in pietra Raccogliamo del ferro Creiamo una fornace Con la fornace cuacciamo il ferro Con il ferro creiamo un piccone E ora andiamo a cercare i diamanti E si però in se caverno si trova una minchia Mezz'ora è che sto qua che cerco Vabbè qua c'hanno dicendo Minchia fin troppo di scese Vabbè ho preso Aspetta ma quali sono diamanti? Sì sì quali sono diamanti Ok piano prendili Aspetta giriamo la visuale Ok prendili Sì sì Ho completato la sfida Sì Per una volta la mia vita Sì no No Grazie a tutti.